Grazie a tutti. In ritardo dobbiamo decidere chi vince e chi invece per il momento almeno rimane fermo al palo, ma in attesa di essere ripescato. Lo diciamo subito, allora si può votare su www.tuttoin48ore.tv naturalmente e si può votare per ripescare uno nelle dieci puntate dei corti che non risulteranno vincitori. Ma adesso è il momento. Prego Cecilia. No, no, fallo tu. Cominciamo da Paolo Genovese, allora. A chi dà il voto e perché? Tutte e due apprezzabili, ma do il voto a Clean & Chips. Bravi. Guarda, potete innevare i motivazioni, ci sono molte cose pregevoli, però la più importante è che è un corto che non risente del fatto di essere stato fatto in 48 ore. Cioè non ci avrei creduto se non l'avessi visto. Ha una sua dignità, a prescindere dal tempo di realizzazione e contiene tutti gli elementi. Bravi a recitare, mi sono divertito. Bravi. Complimenti veramente. Allora, uno a zero per Clean & Chips e per il secondo corto che abbiamo visto, la squadra due. Fiediamo a Riccardo Severi che cosa ha. È il momento di Riccardo Severi. A chi dà il tuo voto e perché? Io al contrario dell'altra squadra, perché stiamo restando brevissime entrambe le squadre per le 48 ore. Alla squadra uno quindi, diciamo. Sì, alla squadra uno. Malgrado forse qualche dialogo in più, non ci sarebbe stato male, però tra il montaggio, la sceneggiatura e anche il soggetto, secondo me si merita di vincere questa sera. Perfetto, grazie, grazie. E ora Pier Belloni. Sì, mi sembra indispensabile fare i complimenti a entrambe le squadre, soprattutto per lo sforzo difficile di concepire e realizzare un corto in 48 ore. Attenzione perché il tuo voto è decisivo. Il mio voto è decisivo. Sta proprio al centro. Il primo mi è sembrato bello, leggermente naif rispetto al secondo, che è un film più completo. Quindi il mio voto va a Clean and Chips. Vince la squadra di Simone di Maria, Clean and Chips, un attimo ancora, però complimenti. I primi vincitori di tutto il 48 ore. No, vorrei ribadire i complimenti comunque anche a Romantica o Romantica. Io ho visto una doppia lettura del titolo e di continuare questo lavoro, che è un lavoro difficile, comunque da intraprendere e continuarlo con perseveranza. Complimenti anche a Kina e Chris Studios, un applauso alla squadra di Cristian Iepsi. Due a uno, una sconfitta onorevolissima, che non è una sconfitta poi, perché sono tutte e due vincitori, perché tutte e due hanno consegnato nelle 48 ore. E mi vieterei sul palco anche i tutor, che dovranno dire una parola, ovviamente Matteo e Daniele, prego, velocissimi in questo finale, tutti sul palco. Vabbè, il regolamento parlava chiaro, era massimo 10 partecipanti, loro erano 22, quindi sono squalificati. No, no, era tutto regolare, non c'è questo limite, non c'è questo limite. Vabbè, ragazzi. Daniele invece, quanto è contento? Sento che ci sono delle voci di protesta, vogliamo dare... Sono dei miei parenti. Non le puoi dare tu, insomma, le voci di protesta poi vincono. Io credo che questo non funzioni. No, credo che era la mia squadra, per cui in qualche modo sono stato molto contento, però devo dire che li ho apprezzati entrambi. È davvero molto difficile farlo, per cui il fatto che ci sia un minimo di qualità nel film è testimone del fatto che questi ragazzi sono bravi e devono, come ha detto lui, continuare a studiare, perseverare per fare questo mestiere, perché hanno tutte le chance di farlo. Entrambe le squadre, sicuramente applauso collettivo all'ora, grazie davvero. In finale, a Roma il 23 luglio, insieme con Daniele, allora che li seguirà in questa avventura, mettere la possibilità di ripescare la squadra, se vi è piaciuto il corto, anche dei Kinecris Studios, votando su www.tuttoin48ore.tv, ma anche sulla pagina Facebook di Rai 5, e anche la pagina Twitter di Rai 5, poi all'hashtag, tutti quelli che sono su Twitter lo capiscono e la conoscono, tt48. Io ringrazio anche il nostro sponsor SkyLogic, tutti voi che siete stati qui. Ah, è con la sedia del regista! E poi la sedia del regista che è appena arrivata, dove si siederà questa sera... Il regista, il regista che è pronto, prego, ufficialmente Simone Di Maria, regista della tappa di Roma! Grazie a tutti per questa prima puntata, grazie tantissimo a Cecilia Dazzi, grazie tantissimo. Grazie a te, grazie a te Claudio. Grazie a tutti voi, stiamo un po' cominciando a tutti i motori, buonanotte a tutti e grazie. Grazie a tutti.